Ci sono due elementi che differenziano questo nuovo iPad di settima generazione dal modello precedente. Il primo è un display leggermente più grande e il secondo è il connettore che non vedete qui sotto ma che vi permette di utilizzare la smart keyboard. Ma non sono questi i motivi per cui lui è in questo momento il tablet da tenere maggiormente in considerazione se non vogliamo spendere troppi soldi. L'elemento che fa realmente la differenza è infatti iPadOS che aumenta esponenzialmente le possibilità in termini di produttività. Ma vi ho già anticipato troppo quindi rimbocchiamoci le maniche e partiamo. Il nuovo iPad di settima generazione che per comodità da qui in avanti chiameremo semplicemente iPad non è molto differente dal modello originale del 2011. Si sono un pochino strette le cornici laterali e si sicuramente ha sottigliato il profilo ma diciamo che il disegno resta quello di 8 anni fa ed è comunque identico all'ultimo iPad Air. Avrei cambiato qualcosa? Sicuramente sì, avrei ridotto le cornici per dargli un look più contemporaneo e avrei sostituito il Touch ID con il riconoscimento facciale ma probabilmente in Apple hanno pensato che aggiungendo questi elementi ci sarebbe avvicinati troppo all'iPad Pro e quindi non volevano sovrapporre i prodotti. Nonostante il design sappia di già visto ciò che non cambia assolutamente è la sensazione di qualità che si ha quando lo si prende in mano e non posso poi non apprezzare il fatto che la scocca sia realizzata interamente in alluminio riciclato. Sicuramente un bel segnale da parte di un'azienda così importante. Parlando di dimensioni sono leggermente superiori rispetto alla precedente generazione ma spessore e peso a parte l'impronta è esattamente sovrapponibile a quella dell'ultimo iPad Air. Dettaglio che permette ad Apple di vendere la stessa Smart Keyboard per entrambi i prodotti. Smart Keyboard che non è ovviamente inclusa in confezione va acquistata separatamente e costa 179 euro. Sinceramente parlando come tastiera non mi entusiasma per nulla. I tasti sono piccoli ma a non convincermi è soprattutto il feedback che è troppo troppo attutito. Posto che comunque si tratta di un accessorio fondamentale per incrementare la produttività è giusto sottolineare che in vendita si trovano soluzioni alternative più economiche e secondo me migliori dal punto di vista dell'ergonomia e dell'usabilità magari provviste anche di protezione per la parte posteriore del tablet che in questo caso non c'è. La piattaforma hardware è la stessa del modello dello scorso anno ovvero quella 10 Fusion che trovavamo già nel 2016 dentro ad iPhone 7 e 7 Plus. Qualcuno potrebbe storcere il naso e se siete appassionati di tecnologia come lo sono io è ovvio che avreste preferito un processore più recente ma devo dire la verità utilizzando questo iPad non se ne sente mai il bisogno. Gira sempre tutto fluido non ci sono interruzioni le app si aprono velocemente e il multitasking è gestito alla perfezione senza alcun lag o rallentamento insomma il chip è datato ma non ve ne accorgerete. Apple ha giusto giusto aggiunto un giga di ram portandola a 3 per supportare al meglio l'utilizzo con più applicazioni aperte in contemporanea che poi vedremo essere un punto di forza di questo tablet. La caratteristica fuori luogo è sicuramente la memoria di storage che parte ancora da 32 giga nel modello base da 389 euro per poi salire direttamente a 128 giga. Secondo me sarebbe stato più corretto e sensato partire da 64 quindi un taglio leggermente maggiore per poi passare a 128 o anche 256. E veniamo all'elemento che davvero differenzia questo iPad dal modello del 2018. Ve l'ho già letto si tratta di iPadOS che non è più un iOS con qualche modifica per adattarlo ad uno schermo più grande ma è un sistema operativo dedicato con una serie di ottimizzazioni che puntano a migliorare in maniera davvero importante la user experience. Le funzioni più interessanti sono sicuramente il menu slide over, la home screen con i widget, le app multifinestra e i browser in versione desktop. Parto dal menu slide over che è perfetto quando utilizzato in abbinamento al multitasking perché permette a colpo d'occhio di controllare tutte le app aperte in background, di passare da una all'altra e di tenerle aperte in una terza finestra flottante oltre ovviamente alle due già presenti dello split screen. Immaginate ad esempio di avere aperto un documento finanziario e un foglio di calcolo Excel e di necessitare della calcolatrice. Vi basterà aprire con uno swipe il menu slide over, sfogliare le app aperte e selezionare la calcolatrice che rimarrà così aperta in sovrimpressione permettendovi di utilizzare al lato pratico tre applicazioni in contemporanea. Il tutto condito da una reattività e da una fluidità che assolutamente non vi farà rimpiangere soluzioni anche più costose. La home screen è ora divisa poi in due sezioni, migliora la versatilità e permette di posizionare al fianco delle applicazioni più utilizzate una serie di widget che non sono assolutamente una novità ma che vediamo per la prima volta su un prodotto della mela e sono sempre comodi per avere tutto sotto controllo con un solo sguardo. Anche le applicazioni multifinestre sono già presenti ma con iPadOS viene aggiunta la possibilità di utilizzare due istanze della stessa applicazione affiancate. E per finire abbiamo Safari e più in generale tutti i browser che ci sono sempre stati ma che ora forzano l'apertura delle pagine in versione desktop. Considerando le dimensioni del display che qui sono di 10 pollici potrebbe sembrare una normalità ma con iOS non lo era verrebbe da dire meglio tardi che mai. Sembra una stupidata ma fidatevi non lo è affatto dover richiamare ogni volta la versione desktop del sito che si sta navigando è una vera rottura di scatole possiamo anche dirlo. In sostanza quindi possiamo dire che tutto il sistema operativo è stato rivisto per trattare questo iPad esattamente come un notebook. Ora da qui a rimpiazzare il vostro MacBook probabilmente di strada ne passa ancora parecchia ma diciamo che in alcune situazioni di emergenza o se non avete bisogno di potenza di calcolo esagerata e la vostra routine si limita ad esempio alla gestione delle mail allora potete iniziare a pensare di lasciare il notebook sulla scrivania in alcune determinate situazioni. In tutto questo c'è poi un'ulteriore funzione di cui voglio parlare che si chiama sidecar ovvero una funzione che è stata introdotta con l'aggiornamento di macOS alla versione catilina e che permette sostanzialmente di utilizzare iPad come un secondo display wireless. Il collegamento è veloce, abbastanza intuitivo e stabile ma soprattutto ci permette di lavorare in mobilità con quello che a tutti gli effetti possiamo considerare come un secondo schermo. Io ad esempio l'ho trovato molto utile in viaggio per montare un video lontano dalla mia scrivania e quindi dalla mia solita configurazione con due display. Non manca poi il supporto alla Apple Pencil che purtroppo però si ferma alla prima generazione quindi con tutte le limitazioni del caso non abbiamo la ricarica wireless e nemmeno le gesture ma la vera caratteristica penalizzante almeno dal mio punto di vista sta nel display che non è laminato e che crea quindi uno spiacevole effetto parallasse quando appoggiamo la punta della penna per tracciare una linea. Se avete provato la Pencil 2 con l'iPad Pro questo davvero diventa fastidiosissimo. Display che indubbiamente stona in questo contesto e che è rimasto per tecnologia identico a quello precedente aumentando solamente la diagonale e la risoluzione ma in sostanza mantenendo la stessa definizione. Un peccato davvero sarebbe bastato usare lo stesso pannello dell'ultimo iPad Air per portare effettivamente anche questo iPad nel 2019. C'è poi una fotocamera da 8 megapixel sul retro ma vi assicuro che non la userete praticamente mai mentre non capisco perché Apple continua e si ostina ad utilizzare un modulo da solo 1,2 megapixel nella parte frontale. Qui c'è tutto lo spazio a disposizione per un modulo migliore e secondo me ha molto senso migliorare la fotocamera frontale ad esempio per le videochiamate. E chiudo parlando di autonomia ho provato a inserire l'utilizzo di iPad costantemente nella mia routine quotidiana e con un paio di ore di utilizzo giornaliero navigando controllando le mail giocando magari un pochino anche a FIFA 20 possiamo stare senza caricatore per 4-5 giorni. Se dovete affrontare un intercontinentale quindi assicuratevi di poterlo ricaricare in volo e magari non aspettate che si spenga. Non c'è infatti la ricarica rapida e ci vogliono più di tre ore per caricare la batteria. Tiriamo le somme e parliamo di prezzi. Il modello base solo wifi e con 32 giga di memoria costa 389 euro ma si sale subito di 100 euro se vogliamo qualche giga in più e si arriva a 629 euro con la connessione dati. Insomma è l'iPad più economico ma comunque non ve lo regalano. Resta a mio parere però la miglior soluzione la migliore interpretazione di tablet sulla piazza e tutto sommato 389 euro considerando anche gli standard della mela non sono poi una cifra così irragionevole. Se questo video ti è piaciuto mi raccomando lascia un bel like qui sotto, iscriviti al nostro canale youtube e attiva le notifiche. Nel frattempo in descrizione trovi anche il link all'articolo che ho appena pubblicato sulle pagine di HDblog con tanti altri dettagli. Ciao!